Minuti su Radio 2, adesso a Caterpillar riprendiamo quelli che sono i nostri cineforum, lo facevamo anche l'anno scorso, ci piace molto, il cineforum territoriale, di fatto il film che raccontano alcune realtà italiane, soprattutto all'800-800-002, anche persone che non hanno visto il film, ma che in questo caso sono calabresi, calabresi che vivono in Calabria o calabresi emigrati altrove. Il pretesto, ma è un pretesto spettacolare, perché siamo andati a vederlo qualche giorno fa col motorino, questo è un dettaglio di Sara Zambotti, siamo andati a vedere Anime Nere ed è la cosa personalmente migliore vista quest'anno e allora collegato con noi da Roma negli studi di Radio 2 a Roma c'è il regista Francesco Munzi, gli diciamo buonasera e grazie di essere qua. Buonasera e grazie a voi, grazie anche ai complimenti. No, no, siamo gli unici, 13 minuti di applausi quando è stato presentato al Festival di Venezia, come facciamo sempre con i nostri registi, Munzi, le possiamo chiedere una breve sinossi, perché il cineforum è aperto anche a chi non l'ha visto, ci piace così essere inclusivi. Ce lo racconta lei, Anime Nere, lei che l'ha girato, poi le chiediamo qualcosa a noi e poi sentiamo come l'hanno presa in Calabria, perché un po' la Calabria c'entra, neanche tanto, perché è un film universale. Sì, è un film che racconta di una famiglia criminale calabrese della Spromonte, ma è una famiglia criminale quindi non rappresenta la Calabria, però ha la particolarità di far vedere una Calabria forse che io non conoscevo almeno prima, cioè la montagna della Spromonte, la Locride, una delle regioni che personalmente credo siano meno esplorate al cinema. La storia, in due parole, le sintesi sono sempre difficili, ma ci provo, è la storia di tre fratelli che vivono, il più anziano vive in Calabria, il mediano vive a Milano e ormai si è imborghesito, mentre il primo è ancora legato alla montagna, alle capre e il terzo vive in giro per il mondo. Dopodiché il figlio, un ragazzo un po' scriteriato, il figlio del più anziano, litiga in paese per una sciocchezza e spara la vetrina di un bar. Questo gesto fa rinascere una faida che sembrava sepolta da tanti tempi, da vent'anni, legata all'uccisione del padre di questi tre fratelli. Quindi questo inizia un meccanismo a catena che costringe a questi tre fratelli a ritornare in Calabria per cercare di trovare una soluzione a questo problema, ma il passato sembra vincere e quindi inizia una spirale di violenza che pare e sarà inarrestabile. Munzi, una domanda. Noi sappiamo che lei ha fatto 20.000 provini, ha cercato di coinvolgere gli abitanti di Africa nella realizzazione di questo film, tre anni di riprese. Com'è stato girare in Aspromonte, proprio il contatto con le persone? Devo dire che è stato bellissimo, è stato faticoso, ma io ho una sorta di pregiudizio che mi veniva dato anche dalle cose che leggevo. Intanto io parto da un romanzo che è Anime Nere di Giochino Criaco che racconta una storia molto dura e io parto da lì. E quindi siccome questa storia è ambientata in questo paese, si chiama Africo, che è alle falde della Spromonte, era una parte ionica e questo paese è stigmatizzato in maniera molto negativa dalla cronaca nera. Ecco, io mi sono avvicinato a questo posto dove volevo assolutamente girare il film con una certa diffidenza. Poi ho capito che... Aveva anche paura, Munzi? Ma paura no, perché poi io ho subito incontrato delle persone molto aperte. Al di là del tema che affrontavo, ci siamo tutti incontrati nella messa in scena. Cioè noi abbiamo comunque lavorato per un anno, sia nei provini, sia poi nella preparazione, poi le riprese, a livello di una messa in scena, una grande recita collettiva. E in questo il paese mi è venuto incontro. Ecco, non è scattato un meccanismo giornalistico di cronaca, ma proprio un... E per la prima volta si è fatto... Non so, loro mi dicono che per la prima volta si è fatto un progetto, qualcosa di positivo. Ecco, sentivo una grande voglia di partecipazione. Questa è stata un'esperienza umana per me bellissima. Muzzi, fra un attimo ci torniamo. Le possiamo chiedere una cosa filmica, che a noi ne abbiamo discusso. Io, Zambotti, non parliamo mai perché tocca lavorare insieme e ci mancherebbe... Però siamo rimasti affascinati, due due, dalla capacità che lei ha avuto di tenere sempre altissima la tensione. Il film inizia su un canale in Olanda e si capisce subito che succederà qualcosa, poi qualcosa succede, ma la tensione continua a esserci e alla fine succede l'apocalisse. Non lo dica, si è rimasto sconvolto dalla via. La domanda è come diavolo ha fatto a girare un film con attori, per esempio, conta anche quello, pochissimo conosciuti, salvo poche cose, tenendo sempre questa tensione altissima. Perché nella vita della Zambotti e nella mia non c'è mai una tensione lì? Beh, tutti dicono che i film devono essere come la vita, senza... Truffolo diceva, senza la noia della vita, i momenti noiosi. Nella mia non resterebbero due minuti. Anche forse della mia, però diciamo che quando si scrive un film uno cerca di condensare il meglio, ovviamente. E comunque in questo racconto a me quello che piaceva era creare una dimensione... Il fiume Carsico, cioè qualcosa che sta sotto e sta lì per esplodere e non esplode mai. Sì, il male, qualcosa di intero. Questi personaggi lo hanno già dentro, ma loro lo sanno, ma gli spettatori no. E questa cosa esce fuori pian piano lungo la storia. La trasmetto informazioni piano piano durante il racconto. E se mi dite queste cose, sono contento di averle trasmetto. Cioè, da due rottami come noi. Infatti, due rottami emotivi. Munzi, abbiamo gli ascoltatori, insomma, abbiamo lanciato l'appello all'800 800 002. Prima di sentirli, ci parlerà soprattutto lei, un piccolo audio del film per capire questa tensione. Teni a mente che i nostri campano là sotto, lui. Ora andavamo e camminavamo unite, senza che facciamo stronzare lei. Ormai cresci io, ma avete amico. Alla prossima volta si parla in te, lei. E noi arriviamo a momenti di chiudere qualche due serpente. Mi dici cosa succede? Quanto merito mangia parri? Estratto, estratto sonoro di Anime Nere. Anime Nere inizia con un dialogo fra narcotrafficanti che parlano in spagnolo. È sottotitolato, poi prosegue in dialetto calabrese. È sottotitolato anche quello. C'è una continuità di linguaggio che poi si riverbera nei silenzi. Non so cosa voglia dire, ma me l'erò segnato. Perché mi sembra che ci siano dei silenzi bellissimi. Tutto il film è in dialetto, anzi ci sono delle parti dove un personaggio protesta per il fatto che non si parli italiano, che è la moglie di uno dei protagonisti, che teme quando questi fratelli si riuniscono perché proprio non capisce niente, diventa estranea. Il dialetto a me sembrava che, tra l'altro, diventa un suono del film perché poi sono altre le dinamiche che portano avanti la storia. Il dialetto mi serviva per raccontare e per dare il realismo di questo posto che è molto particolare. Dovevo creare l'atmosfera e anche l'alterità di questi personaggi nei confronti del mondo esterno. È una famiglia molto chiusa e che lascia trasparire poco di sé all'esterno. Munzi, ci proviamo, scusi, perché abbiamo tantissimi ascoltatori in attesa. Insomma, la convocazione è un po' per il popolo calabresi in ascolto. Assolutamente. Come l'hanno presa i calabresi all'800-800-002? Se l'hanno vista è meglio o se l'hanno vista è peggio per loro, ma possono parlare lo stesso. Pronto, buonasera, Antonio Mannelli, orgoglioso di essere calabrese stasera, andrà a vedere il film che è in programmazione in due sale, ma soprattutto collaboratore della casa editrice Rubettino che ha pubblicato Anime Neve. Se l'ha falso io ho scelto di rimanere in Calabria pur avendo vinto un concorso in banca quasi 40 anni fa a Verbania, ma sono rimasto nella casa editrice, contentissimo di essere rimasto e volevo fare una semplice domanda alla regista Munzi. Parecchi pescano sui libri per le sceneggiature, è vero questo? C'è anche un aneddoto, qualcuno è chiamato, come fare a fare un film per un libro pubblicato? Munzi, ti tocca rispondere all'ascoltatore. Sì, sì, no. Non è andato a Verbania 40 anni fa, non gli faccio venire voglia di andarci. Io sono partito dal libro, ma poi anche perché quando si prende una storia, un film da un libro bisogna anche saperlo rimanipolare, rimangiare, farlo proprio. Quindi Anime Nere è un libro che ho amato, ma che poi ho abbandonato, nel senso che per preservarne lo spirito ne ho costruito un'altra storia, che cresce su quella, ma non è quella. Infatti il libro è ambientato negli anni 70-80, è una stagione dei sequestri, e i personaggi hanno 20 anni, nel mio film si parla dell'oggi, e sono gli stessi personaggi cresciuti che hanno 40 anni. Quindi è come se io conoscessi il loro passato attraverso il libro, e per questo mi è stato fondamentale. Continuiamo, un altro ascoltatore, pronto? Buonasera! Buonasera, chi sei? Sì, ciao, io sono Andrea, di origine San Martino di Tavianova, piano di Girotauro, ai piedi della Spromonte. Visto Anime Nere? Purtroppo no, ma tanto il weekend è ormai iniziato, quindi lo vedo presto. È uscito ieri in 126 sali in tutta Italia. Dove vai a vederlo, perché vogliamo la promessa? Ma sicuro, guarda, non c'era manco da chiederselo. Vabbè, chiedi a Francesco Munzi. Beh, più che chiederlo volevo solo dire una cosa, perché prima sentivo dire che lui si è sorpreso a trovare questo ambiente, comunque nonostante tutto accogliente, insomma. Beh, a me non mi sorprende affatto, perché l'andrangheta di oggi non è più l'andrangheta di vent'anni fa. È un'andrangheta che davanti a un film del genere, invece di protestare o ribellarsi, anzi lo vede quasi come una vetrina, come qualcosa di cui vantarsi. Non so se è d'accordo su questa analisi mia. Bella riflessione. Grazie, grazie. Grazie. Munzi, c'è il rischio di aver fatto, facendo un film bellissimo, pieno di tensione, un pezzetto di esaltazione dell'andrangheta? Ah, non credo proprio. Non credo proprio, dovete... Penso che l'ascoltore lo debba vedere, perché ecco, una delle cose di cui mi vanto questo film è di aver dato un'immagine piuttosto dolorosa e faticosa di certa vita. Non credo di aver dato un'immagine di allure o mitica, anzi, probabilmente faccio vedere il lato anche più squalido, e più doloroso di certe scelte. Quindi, insomma, da questo punto di vista sono molto sicuro. Mi fa piacere che l'ascoltore chiami da Gioia Tauro, perché invece da Gioia Tauro ho trovato uno dei miei protagonisti, che è il ragazzo che fa Leo, un attore straordinario, cioè la prima volta sullo schermo, che regge veramente una gran parte del film sulle spalle. Ecco, Monsi, una cosa che è vera, che abbiamo letto in queste ore, è che quando il film è stato presentato in Calabria ha ricevuto un'accoglienza incredibile, insomma, scusi l'aggettivo, non molto preciso, ma insomma, che le persone sono commosse tantissimo, per cui c'era bisogno di un film così. Straordinario. Io ho insistito con la produzione, che in genere non si fa, si fanno a Roma o a Milano, di fare proprio l'anteprima nazionale in Calabria. Abbiamo fatto due tappe, una terza all'Ocrico seguito telefonicamente, e al di là della partecipazione è incredibile, è incredibile, ripeto questa parola, ma è vera, è straordinario, nel senso che hanno dovuto per esempio smontare dei film americani che stavano nelle multisale per dare almenere in altre, perché questo è un fatto storico. Cioè, è stato smontato in mercenari? Non lo dico, se no magari non si può dire, quindi però ha fatto un tutto esaurito in tante sale e adesso i dati che continuano sono veramente incoraggianti. Però il timore là c'era, perché comunque ero curioso del giudizio, dei calabresi, che è un conto parlare, un conto per vedere il film. Sì, perché è un ritratto anche impietoso, dobbiamo dirlo, non c'è grande speranza, voglio dire, per chi resta lì, insomma. Sì, non credo che chi vede il film può essere attratto dal fare. No, no, no. No, no, no. Assolutamente no. È la potenza nera del male. Senti, invece, ci ha molto colpito, nella nostra ignoranza, Sara Zambotti e io, abbiamo riconosciuto un paio di attori famosi, la Bobulova, che fa la signora milanese, che non capisce, e poi Peppino Mazzotta, perché faceva Fazio nel commissario Montalbano. Gli altri sono, ai nostri occhi, tutti sconosciuti, ma molti sono persone di Africa o dei paesi vicini che lei ha fatto recitare. Assolutamente, sono stati fondamentali per la riuscita del film, perché ho creato una squadra di attori professionisti, una squadra di non attori che provenivano per la maggior parte d'Africa, ma anche da tutta la Calabria, perché appunto i ragazzi vengono da Gioia Tauro e altri dai paesi limitrofi, e li ho messi insieme. Allora si sono un po' aiutati a vicenda, gli attori davano i suggerimenti del mestiere, delle regole per fare bene, e i non attori davano invece anche la vita, davano attraverso le parole. Suggerimenti culturali. Sì, culturali, movenze. Insomma, è stato un lavoro molto bello, abbiamo riscritto la sceneggiatura mettendoli insieme per due settimane prima, e quindi alla fine non li distinguevo più i professionisti dai non. Monsi, noi ringraziamo di essere stato con noi, noi ci si permette, avendo fatto un film così, più che bello, bellissimo, ce lo godiamo, adesso ne facciamo un altro, perché ne abbiamo bisogno. Produzione Rai Cinema, diciamolo, perché insomma comunque la Rai anche ne fa parte. Complimenti, Monsi, insomma, da vedere, arrivederci. Grazie mille.